Molte aziende, anche tutt'oggi, hanno la porta RDP esposta su internet. L'RDP sta per Remote Desktop Protocol e ti consente semplicemente di collegarti dal remoto in una macchina, che può essere Windows 10, Windows 7, Windows Server, e questo può essere fatto per diverse ragioni. Per esempio, l'amministratore di sistema è fuori dall'azienda, deve collegarsi in azienda perché motivi di amministrazione, quindi controllare se un servizio funziona o se si è fermato, eccetera, eccetera. Ora, questa non è una bellissima idea, perché, come andremo a vedere, è facilmente, come dire, hackerabile. Passatemi questo termine. L'attacco che andremo a vedere oggi è il brute force, che non è niente di complicato. Poi ci sono exploit invece più complessi, che tramite appunto l'exploit fanno sì che prendi l'hash della comunicazione tra te e la macchina, senza aver fatto ancora il login, chiaramente, poi crack l'hash e trovi la password e anche ovviamente l'username. Ora, questo video non vuole essere un video per incentivare azioni illegali. Quello che andremo a fare oggi sarà fatto su macchine di mia proprietà, quindi su VM che io ho installato sul computer e serve a te per fare pratica, può servire a te per capire come funziona e come porvi rimedio, per esempio al brute force attack, e o se si parla dell'exploit come porvi rimedio anche in quel caso. Quindi, andiamo a vedere un attimo cosa abbiamo. Qui abbiamo la mia macchina di Kali, come si può ben vedere dal desktop, poi abbiamo la macchina di Windows, che eccola qui, ed eccola qui. Adesso andiamo a lanciare dei comandi per vedere come si può fare. Allora, io ti mostrerò due tipi di scansione per questo scopo. Una con nmap, l'altra con metasploit. Quindi andiamo a vedere con nmap e con metasploit. Allora, intanto apriamo due sessioni qui, due terminali, che si aprono view action. qui abbiamo le nostre due sessioni, o anzi, più precisamente abbiamo le nostre due shell. Quindi sudo su, in una farò partire metasploit, nell'altra nmap. Quindi msf console, per metasploit, di qua nmap. Allora, guardiamo con nmap. nmap, meno a, che sta per aggressive, meno p, che è la porta, 33, 3389, e l'indirizzo IP della mia macchina Windows 10, che è 204136, se non sbaglio, sì. E facciamola partire. fammi un attimo ingrandire, zoom più, ctrl c, ctrl più, eccolo qui, ed eccolo qua. Allora, come si può vedere già da qua, abbiamo un po' di informazioni, per esempio, sappiamo che, o possiamo vedere che, la porta 3389 è aperta, che il mio computer si chiama windows10.crasinet.local, poi, questo è, perché questa macchina era in dominio, e quindi ho il dominio.local, poi, il target name, crazy.net, domain name, crazy.net, windows10, che è il nome della macchina, non il sistema operativo, eh. Il sistema operativo può essere anche windows7, tant'è che, e gira su vmware, tant'è che, eh, nmap, prova a indovinare il sistema, e dice, guessing, windowsxp, figurati te quanto è lontano, questo è windows10. Poi, invece, se vogliamo provare con, metasploit, allora dobbiamo fare, use, auxiliari, auxiliari, perché non funziona? Scanner, e poi, chiaramente, RDP, e poi, RDP scanner, show options, perché funziona il tab, options, è tanto comodo, ops, e abbiamo, qui devo un po' diminuire, perché altrimenti, è un po' troppo, è un po' troppo grande, allora, show of options, è uscito, scusate, andiamo a riprenderlo, allora, a riprendere questo, così non lo riscrivo, user auxiliari scanner, LDP scanner, chissà perché è uscito, paste, ok, show options, quindi, bisogna mettere, rhost, che sta per, remote host, quindi, rhost, e la macchina, che vogliamo scannerizzare, quindi è questa, e poi, run, exploit, quello che, preferisci, chiaramente, è velocissimo, perché la macchina, è sullo stesso computer, e quindi, sempre, windows 10, che è il nome della macchina, non il sistema operativo, domain, crazy.net, fqdn, crazy.net.local, e il full, fqdn, quindi windows 10.crazy.net.local, os version, è questa, ora, se io vado qui, e prendo la versione, per esempio, anche se lui mi dice, cioè, lui mi dice il nome del computer, ma, in realtà, io non so che sistema operativo c'è, però, controlliamo la versione, magari, ho fortuna, e mi dice, che windows è, windows 10, infatti, windows 10, ora, magari uno può pensare, eh, c'è scritto windows, c'è scritto versione 10, e windows 10, no, la versione può essere anche 20, quindi, a questo punto, abbiamo queste informazioni, ora, apro una nuova sessione, che userò un altro programmino, sudo, su, cali, cd, caobar, crowbar, e a questo punto, andiamo a scrivere questo, punto, punto, slash, crow, crowbar, punto, py, guai, è, python, server, poi, 192, 168, punto, 204, punto, 136, slash, 32, meno, b, rdp, meno, u, xxx, che è l'username, è l'utente, che, perché, su questa macchina, l'administrator, è, shutdown, è down, l'ho scollegato, poi, c'è un altro, c'è un altro sistema, per trovare l'username, siccome richiede un po' più di tempo, io, questa volta, in questo video, ti faccio vedere, solo, questo tipo, di attacco, poi, user, slash, share, andiamo a prendere la, la password, le password, insomma, la lista, nslib, theta, slash, password, password, punto, lst, e controlliamo se funziona, vedi, non funziona, perché lui, qui, non mi trova questo, dita, dita, slash, password, ppp, eccola qui, ok adesso è partito e la scansione richiede un po di tempo e vedremo che trova la password dell'utente xxx nel frattempo io metto in pausa un pochino il video così che tu non debba aspettare e poi torno subito ed eccomi tornato dopo circa dieci minuti ha trovato la password la password è questa utente xxx password admin 123 proviamo vado sulla mia macchina reale qui di windows ho già l'ip perché chiaramente avevo già provato prima faccio connetti admin 123 e come vedi ha cambiato monitor ed eccomi qui ora caricherà il desktop ed ecco il desktop ma che cosa è successo dentro a windows andiamo a prendere la macchina di windows questa è un'altra cosa che ti mostro sempre nell'ottica di prendere coscienza e di controllare sempre se ci sono movimenti strani nel tuo sistema se andiamo qui a vedere su event view event view dentro a registri di windows sicurezza e troveremo questo eccolo qua vedi questi sono tutti i tentativi che ha fatto il programma eccolo qui accesso account non riconosciuto e nome utente xxx che ho provato io con quel nome utente e nome utente sconosciuto password errata ora questo può capitare ovviamente perché magari in un'azienda se l'utente si dimentica la password oppure ha cambiato la password di recente e non se la ricorda o per sbaglio la digita in modo errato chiaramente nell'event view vedrai questo però come tu puoi ben vedere qui ce ne abbiamo tanti quindi questo è un grossissimo segnale d'allarme in più vengono tutti dallo stesso nome utente quindi se io provassi administrator e vedo per esempio c'è 100 log 50 log di di accesso come administrator sono tutti falliti a questo punto io guardo l'ip perché qui nei dettagli poi ti da anche l'ip qui da qualche parte piccolino dovrebbe essere scritto l'indirizzo ip vediamo un po se riesco ad allargare eccolo qui vedi dalla macchina quindi io vedrei un indirizzo ip pubblico che prova a entrare qui quindi posso immediatamente porvi rimedio prima che sia troppo tardi oppure posso impostare le policy di dominio o del computer che gli dico guarda dopo tre tentativi blocca l'indirizzo ip quindi lì finisce la storia oppure posso applicare altre policy al computer locale proprio per prevenire questo tipo di attacco cosa differente invece è per l'exploit per l'exploit vengano usate alcune tecniche overflow eccetera che fa sì che la macchina venga inondata di dati oppure nel pacchetto del tcp venga manumesso e sfruttando alcune vulnerabilità del sistema che poi solitamente microsoft quando se ne accorge poi chiaramente rilascia aggiornamenti si possa entrare questo lo vedremo nel prossimo video però per il momento ti ringrazio aver guardato questo video se non sei iscritto al canale iscriviti al canale se ti è stato utile il video lascia mi piace e ovviamente come sempre se hai dei commenti scrivi sotto grazie e al prossimo